Anche a Napoli da oggi sarà possibile parcheggiare senza dover cercare il parcometro o procurarsi il grattino, perché grazie a Ping, l'innovativo sistema messo a punto da Telepass, la sosta sulle strisce blu si potrà pagare con una semplice app sul telefonino. Non è necessario avere il Telepass in auto, basta scaricare l'applicazione gratuita sul proprio smartphone, confermare il codice area presente sulla segnaletica verticale e di impostare la durata della sosta. Il punto importante dell'app è che permette sia di chiudere la sosta prima se il cittadino vuole soffrire della sosta per un tempo minore di quanto aveva previsto, oppure dal remoto può anche prolungarla qualora sia impegnato magari in una riunione di lavoro e quant'altro. Il servizio gratuito e riservato ai clienti Telepass Family o Business permette l'addebito dei minuti di parcheggio effettivi direttamente sul proprio conto Telepass. Da telepass.it il cliente può scaricare un tagliando generico che indica che il cliente sta utilizzando il servizio Ping. Ovviamente questo non è sufficiente per indicare che sta pagando la sosta in quel momento, ma i controllori del traffico sono dotati di un'applicazione che hanno sui loro smartphone, sui loro tablet, che attraverso la lettura della targa possono sapere in tempo reale se su quella targa è aperto un pagamento della sosta e quindi in questo modo sono in grado di sanzionare o non sanzionare l'auto che in quel momento è priva di un tagliando di quelli tradizionali della sosta. L'iniziativa è adottata su impulso del Comune di Napoli e messa a disposizione sull'intero territorio cittadino dall'azienda napoletana Mobilità. Napoli al passo delle altre città si adegua, noi vogliamo dare a tutti l'opportunità di poter parcheggiare così e anche diminuire l'alibi di qualcuno che dice non pago la sosta perché non c'è un'adeguata distribuzione. Se si paga la sosta come se si paga il trasporto pubblico allora possiamo offrire sicuramente un servizio migliore.